In generale pare che bisogna preferire i grassi agli zuccheri e online troverete migliaia di persone che vi potranno spiegare il perché sicuramente meglio di me e in questa mania di sostituzione sta prendendo sempre più piede il bullet coffee cioè il caffè col burro al posto dello zucchero però quello che voglio capire io è se è buono perché comunque mangiare non è solamente nutrirsi soprattutto per quanto riguarda qualcosa che è extra come può essere il caffè quindi se non è buono io come posso mai cercare di prendermelo tutti i giorni quindi ora facciamo questo bullet coffee e scopriamo se è davvero buono e se davvero potrei bermelo tutti i giorni allora ovviamente per fare il caffè al burro ci serve il burro che deve essere messo a posto dello zucchero e il caffè lo burro lo mettiamo un attimo in microonde giusto per farlo sciogliere bene col caffè e ovviamente bisogna fare il caffè ok non è una cosa da bere tutti i giorni ok 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 Grazie a tutti